Sette mesi di cantieri e l'avvio fissato per lunedì 21 ottobre. Dopo tante discussioni partiranno finalmente i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in Viale Libertà Pavia. Un'opera che consentirà di eliminare l'ingrocio semaforico subito dopo il ponte e di snellire, almeno nelle intenzioni, il traffico. Il settore dei lavori pubblici ha stilato il cronoprogramma dell'intervento. La partenza, meteo permettendo, è fissata per il 21 ottobre e per tre settimane non cambierà nulla in tema di viabilità. Gli operai lavoreranno in microcantieri, abbatteranno le isole attorno agli spazi che saranno occupati dalla rotonda. A metà novembre sarà quindi allestita la rotatoria provvisoria attraverso le jersey e gli operai lavoreranno all'interno. Entro la fine del mese di novembre, in una data ancora da stabilire, vi sarà lo switch tra semafori e rotonda. Nell'arco dell'intero intervento non vi saranno modifiche alla viabilità per automobili e mezzi del trasporto pubblico locale. L'unico disagio al traffico potrebbe essere causato dal parziale restringimento delle corsie. Il progetto originale, ha tenuto a spiegare l'assessore alla partita Alice Mogi, è stato modificato prevedendo l'inserimento di un percorso dedicato alle biciclette. Sì, abbiamo modificato un po' il progetto soprattutto per quanto riguarda la parte ciclabile in cui abbiamo inserito dei percorsi sicuri sia l'entrata che in uscita e anche sul ponte. Con le modalità di cantiere dovremmo creare il minor disagio possibile. Ovviamente un cantiere del genere in una zona così strategica per la città un pochino di disagio lo creerà, per questo chiediamo pazienza. Il cantiere dovrebbe durare 224 giorni e concludersi entro la fine di maggio, ma il cronoprogramma è subordinato alle condizioni meteo. In caso di piogge i lavori subiranno dei piccoli rallentamenti.